e si Jacopo è arrivato quel momento quel momento che aspetti forse da una vita però forse non lo sapevi perché hai sempre sentito ardere quel fuoco dentro però per tanti motivi per debolezze perché siamo deboli ragazzi non l'ho mai voluto esternare però l'ho sempre sentito dentro di di voler fare nella mia vita qualcosa di grande non so se sarà tale però ci voglio provare con tutto me stesso sacrificando tutto giocandomi tutto quello che ho anche un po di più per veramente coltivare una passione inseguire un sogno creare qualcosa di mio fare qualcosa di grande nel mio paese nella mia zona perché possiamo fare qualcosa di grande anche in Val Bormida è un anno più di un anno che aspetto concretamente questo momento perché mi ricordo che decisi di riprendere in mano la mia vita in una serata di fine marzo se non erro 2023 poi vado a ricercare proprio che giorno era perché quello forse chissà col senno di poi è stato sarà il giorno più più bello della mia vita ma sono convinto che poi ne susseguiranno molti altri forse è stato più importante quello cruciale ecco signori apro una palestra ora posso dirlo di bodybuilding in Val Bormida poi ovviamente non faremo solo bodybuilding non vi preoccupate però bodybuilding è quello che piace fare a me è quello che piace fare alla maggior parte delle persone che conosco è secondo me una disciplina adatta a tutti ovviamente poi c'è chi lo vuole fare a livello agonistico chi no ma io voglio dare gli strumenti veramente a tutti atleti agonistici a quelli come me che non sono agonistici però ci credono si allenano seriamente a quelli che si allenano così tanto per a persone di tutta l'età ragazzi ragazze anziani pensionati tutti voglio dare gli strumenti possibili creare una famiglia inseguendo sempre non dimenticando i valori in cui credo in una palestra in cui ci aiutiamo tutti a vivere bene a stare bene insieme e soprattutto perché poi la palestra è fatta per quello a raggiungere a provare a raggiungere di inseguire ognuno i propri obiettivi che può essere fare dieci piegamenti un obiettivo minimo che può essere salire su un palco intraprendere una carriera agonistica ma quello poi lo vedremo non sarà ovviamente solo una palestra di bodybuilding faremo tutto quindi non preoccupatevi chi fa chi si allena più in stile powerlifting quindi che allena la forza le alzate corpo libero ecco poi col tempo ovviamente non è che da subito sarà la palestra migliore del mondo ma già partiremo con uno start importante adesso non sto a spoilerarvi troppo non sto a spoilerarvi i macchinari che ci saranno le marche eccetera come sarà poi quello ci arriveremo e per aggiornamenti mi raccomando seguitemi su instagram primo link descrizione so che già in tanti lo fate però chi non lo fa e mi raccomando fatelo e ecco io voglio spiegarvi un po la mia storia allora io per chi mi conosce lo sa perché è venuto a fare l'elementare con me perché mi ha conosciuto dopo sono una persona che anche un po perché sono un po un testardo bastia al contrario però ho sempre avuto quella tendenza comunque di andare contro corrente no a volte per partito preso ed è una cosa sbagliata ma è una cosa del mio carattere che comunque sto provando e ho provato a cambiare però sono sempre una persona che fin da piccolo comunque pensava con la propria testa aveva dei propri ideali dei propri valori li cercava di portare avanti anche a discapito di amicizie di di altre cose favorevoli perché ragazzi secondo me essere una persona come me che non vuol dire essere una persona migliore delle altre non vuol dire essere una persona più brava più furba assolutamente no ognuno è fatto a suo modo però penso che soprattutto poi da giovani non paghi sempre anzi forse quasi mai nell'immediato però io penso che invece essere una persona che si distingue dagli altri che pensa con la propria testa che ha dei valori alla lunga paghi sempre infatti io comunque cerco di avvicinarmi a persone come me ammiro apprezzo persone come me che anche a volte da sole devono combattere delle battaglie perché per esempio adesso io mi intraprenderò questa avventura e so benissimo che magari adesso sì ho l'appoggio di tutti ho l'appoggio di tante persone saranno persone che anche nelle difficoltà mi aiuteranno ci saranno momenti belli in cui andrà tutto bene in cui tutto sembrerà rose e fiori dei momenti che magari sarò solo con pochi amici pochi fedeli momenti di difficoltà e dovrò comunque tirare avanti dovrò superare tante difficoltà poi io sono la prima esperienza in questo ambito imprenditoriale quindi sarà difficile per me non nego farò degli errori sicuramente però ecco adesso mi voglio godere questo momento in cui comunque c'è l'appoggio e ve ne sono grato diciamo che un po me l'aspettavo un po si è andate anche oltre veramente è un anno comunque ogni giorno della mia vita ogni volta che incrocio qualcuno mi dice ma quando apri se ci sei te io vengo ma che palestra fai quindi c'è tanto entusiasmo questa sta testimoniare che avete fiducia in me questo non è una cosa da poco e che sto facendo la cosa giusta poi se il 31 ottobre 2023 mi hanno cacciato da una palestra per paura che io li rubassi i clienti quello è la fotografia perfetta che io sto facendo la cosa giusta adesso poi non voglio tornare su quell'argomento però sicuramente in questi mesi ho ricevuto dei riscontri negativi e positivi però tutti sono da diverso quella direzione univoca Jacopo veramente stai hai avuto una buona idea che poi vuol dire un'idea che io e i miei amici bramiamo da tempo però io non mi ci vedevo forse a intraprendere questa avventura non avevo il coraggio non avevo la sfrontatezza non avevo anche i soldi magari qualche anno fa di farlo però tornando scusate ho aperto questa lunga parentesi tornando alla mia vita ecco io ho sempre cercato fin da piccolo di fare cose diverse dagli altri infatti voi che poi tanti mi seguono per il calcio se ho scelto di fare Lazio è per quello perché io ero uno che andava controcorrente se i miei amici e i miei compagni tifavano Juventus e Milan io non potevo tifare Juventus e Milan dovevo tifare Lazio ok dovevo tifare un'altra squadra ma in tante altre cose tutti facevano calcio dovevo fare basket vabbè comunque ci sono tanti esempi però dopo la fine della scuola a tratti mi sono sento un po' perso nel senso che io pur coltivando tanti hobby tante passioni però non avevo una passione un lavoro che fin da piccolo desideravo di fare infatti quando sei da ragazzina e da piccolo ti dico ma cosa vuoi fare da grande io rimanevo sempre un po' abbasito da questa domanda mi rodeva dentro questa cosa quindi dopo la scuola diciamo che mi sono accontentato di trovare un lavoro un minimo mi piacesse però voglio dire non era sicuramente una passione che potevo inseguire ho provato anche un anno a ritornare a studiare ma poi anche per motivi anche che era scoppiato il covid non è che ha funzionato tantissimo da tre anni comunque lavoro in un posto dove mi trovo bene guadagno bene e ho tanto tempo libero cose che mi hanno permesso di coltivare la passione del bodybuilding e di avere anche la disponibilità economica adesso comunque a 25 anni di fare un investimento molto importante poi anche comunque con l'aiuto della mia famiglia che comunque nonostante magari non sia entusiasta ve lo dico tra le righe però comunque mi supporta a frescindere questa non è una cosa scontata ve lo assicuro finalmente ecco comunque è nata questa passione della palestra e dall'anno scorso ve l'ho detto la sliding door è stata quando ho parlato con un ragazzo che avevo conosciuto proprio nell'ambito palestra conoscevo da poco nonostante ripeto con i miei amici magari anni fa c'era capitato di fare la battuta ma ci vorrebbe una palestra di un certo tipo in Val Bormida e potremmo aprirla di qua di là ma assolutamente era un'idea non concreta molto astratta che si ci balenava a volte nella testa ma sicuramente non pensevamo di realizzarla in maniera concreta e tangibile assolutamente no non avevamo proprio anche neanche le disponibilità economiche non era nei nostri pensieri però ecco in quel momento lì mi è scattato qualcosa ho detto ma invece di lamentarmi delle cose che non mi piacciono di aspettare che qualcuno faccia questa cosa al posto mio ma perché non alzo la mano e lo faccio io perché non dimostro a me stesso a chi ha sempre creduto in me lasciamo perdere il trattore lasciamo perdere invece chi non ci crede perché ragazzi voi soprattutto quando state facendo un grande passo come sto facendo io un consiglio che vi posso dare per mia esperienza personale concentratevi e badate alle persone che credono in voi non ai tanti pochi possono essere anche tanti che invece vi denigrano che vi mettono i bastoni tra le ruote perché poi tante volte lo fanno per invidia lo fanno perché hanno paura che li rubi i clienti lo fanno perché vorrebbero farlo anche loro poi certamente le critiche costruttive ascoltatele io in questi mesi non sentite di ogni i boomer che mi dicono ma chi te lo fa fare ma di qua di là io non ho mai messo a tacere nessuno ho ascoltato tutte le critiche tutte le campane poi ovviamente le ho selezionate e comunque per esempio il feedback dei ragazzi della mia età di quelli più giovani di quelli appassionati è stato ultra positivo poi quando mi hanno detto guarda se ci sei te io vengo so che sei una persona seria allora io vengo quella è la cosa più bella e ciò non vuol dire che non sbaglierò che non ci saranno momenti difficili non farò delle cazzate no però io vi posso assicurare che darò tutto me stesso anche perché non posso fare altrimenti non ho paura perché anche mio padre me lo dice ma guarda che poi anche da solo non è facile lavorare dovrei lavorare non più 8 ore ma dovrei lavorare quando va bene 12, 13, 14 lui ho detto sì pa lo so però mi sento di fare questo passo non posso aver paura 25 anni di lavorare anche tutto il giorno poi sarà inverosimile ma va bene così per me stesso per inseguire un sogno per coltivare qualcosa ripeto che sentivo da dentro da tanto tempo prima me lo sono sempre detto ho detto Jacopo tu nella vita farai qualcosa di straordinario poi non sto facendo nulla di trascendentale però per me modestamente è qualcosa di straordinario qualcosa che non sarei mai stato in grado di immaginare neanche di poter fare anche solo due anni fa non dico dieci anni fa neanche due anni fa cioè due anni fa mi sarei cagato nelle mutande veramente al pensiero di aprire qualcosa di mio perché poi ecco la cosa che io ricerco a parte crearsi qualcosa di tuo ma che la mia vita cosa che non è più stata negli ultimi anni sia una sfida con me stesso e con gli altri anche ogni giorno ecco quella è veramente uno stimolo che ricerco voglio svegliare il mattino e dire vado a lavorare per me stesso oggi comunque devo dimostrare di devo fare sempre col sorriso sulle labbra poi vabbè a volte non è detto che devi essere sempre col sorriso sulle labbra però comunque quando è un'attività via devi essere sempre sul pezzo ecco se vogliamo spero che sarete con me io non ho nulla per scontato quindi vi ringrazio dell'apporto di questi giorni me lo dovrò guadagnare tutto io sono l'ultimo arrivato quindi dovrò lavorare il triplo degli altri dovrò sudare il triplo degli altri però queste cose non mi possono spaventare mi possono solo stimolare a fare di più e spero di rivedere questo video ma anche solo magari non dico tra dieci anni perché magari tra dieci anni sono troppi anche solo tra due o tre anni e dire cazzo Jacopo ce l'hai fatto magari vedere che adesso la palestra a due o tre anni è ancora migliore le cose stanno andando bene però un passo alla volta io poi ho tantissime idee in questo campo secondo me si possono sviluppare tantissime cose devi solo ecco avere sempre gli ingranaggi del cervello che girano e sono convinto che anche voi perché voi sarete i protagonisti della mia attività della mia palestra mi aiuterete anche per nuove idee per nuovi macchinari per tante cose e mi raccomando seguitemi su Instagram perché ci sono tanti sono già partiti tanti contenuti interattivi perché ripeto voi sarete gli attori di questo mio speriamo bellissimo film signori like al video iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram mi raccomando condividete questo contenuto ciao iscrivetevi al canale Grazie a tutti.